Buongiorno a tutti amici e telespettatori e visitatori di Telebabu, Web TV e Telefed, appassionati di sport e di ciclismo. Dopo questo video vi proponiamo, o meglio dire, vi mostriamo le video interviste ai due leader della classifica. Maglia Rosa, Alberto Contador e Maglia Bianca, Fabio Aru. Dopo questo video, come già detto, vi proponiamo le due video interviste dei due leader della classifica. Generale, Alberto Contador e Fabio Aru. Maglia Rosa e Maglia Bianca, dopo la tappa 10 di Forlì. Zottone, seguiteci sempre e state sempre con noi. Zottone, i prossimi video, seguiteci sempre e state sempre con noi. Telebabu, Web TV e Telefed, buongiorno in Italia di nuovo a tutti da parte nostra. Telebabu, Web TV e Telefed, Zottone. Buongiorno a tutti di nuovo, i prossimi video. Mi è capitato di parlare spesso con uno che di giri ne ha vinti ben due, che è Ivan Basso. Mi ha detto una cosa che tengo bene a mente, che il giro, la tappa facile sarà il lunedì dopo che è finito il Giro d'Italia. Quindi bisogna stare sempre attenti e sempre concentrati. Purtroppo Ricci ha avuto sfortuna oggi e sono cose che capitano nel ciclismo. Sono 21 tappe importanti, devi stare sempre molto attento. Quindi conta tutto. Grazie a tutti.